Alfabeto digitale, per parlare del mondo digitale e delle sue principali applicazioni. La trasmissione, ideata dal professor Domenico Laforenza, ha lo scopo di informare con un linguaggio semplice e diretto gli ascoltatori sugli strumenti digitali, sulle loro applicazioni e potenzialità, ma anche sulle problematiche derivanti da un loro uso distorto o inconsapevole. Oggi nel nostro paese manca ancora una diffusa e consapevole cultura digitale, soprattutto fra i diversamente giovani e purtroppo sono ancora tanti quelli che non sanno usare gli strumenti digitali, uno smartphone, un computer e non ne comprendono le loro grandi potenzialità. Alfabeto digitale, perché come avrebbe detto il maestro Alberto Manzi, non è mai troppo tardi, anche per imparare ad usare la rete. Presenti, dottor Marini, signora Maria. Signora Sanremo. No, Sanremo è già andato. Buongiorno, buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto. Buongiorno, perché alfabeto digitale è alfabeto digitale. Torniamo con l'appuntamento con il professor Laforenza, alfabeto digitale. Oggi il tema centrale ci riguarda tutti da vicino. Spam, lo blocco o non lo blocco quel numero? Vi chiederemo anche un consiglio per chi rompe le scatole dalla mattina alla sera. Buongiorno. Bene, buongiorno a tutte e a tutti e buongiorno ovviamente a voi. Buongiorno, perché l'argomento è molto interessante, diciamo che interessa tutte le persone, anche quelle meno brave a usare, a speppolare, a smanettare, come dici te. Perché anche la signora Maria riceve, sì pronto, sì lei è in questo consente, e dalla mattina alla sera succede questo. Come ci si salva, come ci si tutela, come ci si protegge? Certo, questo argomento mi è saltato agli occhi nel momento in cui io stesso sono stato vittima molto frequente, non solo, ma una volta prima gli attacchi avvenivano classicamente attraverso il telefono di casa. Quindi tu ti precipitavi di corsa dovunque tu fossi in casa, chi è scusi è pronto e lì partiva. Dopodiché c'è stato prima con l'umano che ti interveniva o proponendoti un servizio, un prodotto, un'analisi demoscopica, quello che ti pare, tantissime attività. E poi sono arrivati i robot, i robot per cui automaticamente questi sistemi robotizzati con software sempre più sofisticati vanno a interferire su questo. Comunque Vico Lucinta, ora anche le persone continuano a chiamare perché evidentemente vengono approvvigionate ragazzi e ragazze per fare ogni clic e magari un centesimo di guadagno e chiamano persone, quindi parlano con te, guardi io non ho bisogno, ma no guardi noi abbiamo una proposta quindi non è più un robot. Ci sono le persone e i robot, è la somma dei due effetti. Sono molte persone che chiamano. Sì, allora il punto qual è? Sulla base di questa considerazione è detto ma facciamo una trasmissione intesa a far capire ai più di cosa stiamo parlando e quali sono i rimedi, se i rimedi ci sono. Ci sono rimedi? Ci sono. Partiamo con una indicazione molto positiva, però analizziamo a tutto tondo questa problematica perché molto spesso non sappiamo di cosa stiamo parlando e non sappiamo che ci sono delle forme di difesa e partiamo sempre da quello che è stato per noi l'elemento fondamentale che è il nostro cellulare, il telefonino, lo smartphone perché ce l'abbiamo tutti, d'accordo? E perché gli attacchi, gli attacchi alla nostra tranquillità e alla nostra privacy non sono più operati solo verso il telefono di casa, quello fisso, ma a questo punto vediamo che noi riceviamo chiamate da numeri telefonici che ricordano cellulari. Numeri fisso che stanno calando in maniera impressionante, c'è una persona su tre il telefono ancora fisso in casa. Certo, io sono tra quelli. Che si utilizza. Anch'io sono tra quelli, anche per una questione di linea internet. No, ma ce l'ho anch'io, ma ho il telefono, quindi ho il numero fisso per internet. E allora, diciamo, proprio su questo argomento cominciamo a puntare i riflettori, detto che il problema è che non vogliamo essere raggiunti da telefonate non desiderate e alle volte moleste, ma c'è un'altra faccia che poi affronteremo oggi, è che alcune di queste telefonate possono essere delle vere e proprie truffe online, operate con la voce, da cui il termine che è un misto fra voice e phishing, abbiamo trattato il problema del phishing parlando di gente che abbocca alle email, phishing, abboccare, eccetera. E quindi è il fenomeno del wishing, cioè il phishing operato attraverso la voce. Quindi abbiamo la telefonata indesiderata che ci propongono a fare di tutti i tipi, servizi, eccetera. Abbiamo le analisi demoscopiche intese a sapere il nostro pensiero su, abbiamo la rottura di scatole, diciamo, della persona a briglia sciolta e abbiamo anche, la parte più perniciosa, l'eventuale trasformazione di un'azione di questo genere in un'azione di phishing, cioè truffa operata mediante la voce. Allora cominciamo a vedere come noi possiamo proteggerci da questo. Partiamo sempre dal nostro cellulare, dal nostro smartphone. Allora, noi abbiamo ovviamente due grandi scuole di pensiero. Abbiamo la scuola di pensiero Android, diciamo, i sistemi operativi Android, quindi Google, e abbiamo i sistemi operativi di Apple, iOS. Quindi è chiaro che quello che noi adesso andiamo a dire è funzione di quale sistema operativo. Voi avete, poi ci sarebbero anche altri sistemi operativi minori, ma non ne parliamo in questo caso. Quindi prima io farei una infarinatura generale di che si può fare, prima di arrivare a come questo si possa fare. Ovviamente preparati perché c'è qualche domanda che ti faremo. Certamente, però prima andiamo a plasmare il problema, il quadro. Allora, noi abbiamo due grandi potenzialità. Partendo dal nostro strumento, dal nostro smartphone, o cellulare che sia, è quello di andare a utilizzare delle funzioni che già sono presenti nel cellulare e che molte persone ignorano che lo siano. Si chiamano funzioni di base di protezione della nostra privacy, della nostra tranquillità. Quindi dentro c'è questa roba. Cioè tu quando hai comprato il cellulare e l'ai installato... Che però non si è attiva o è già attivato? No, non sono attivate. Lo vediamo dopo il dove. Prima parliamo dell'aspetto generale. Quindi ci sono delle funzioni che noi abbiamo già all'interno, che alcune hanno scoperto, alcuni per caso, alcuni perché hanno letto, eccetera. Ma i più non sanno che esistono queste funzioni. Queste funzioni si chiamano built-in o anche funzioni embedded, funzioni che sono già all'interno del nostro sistema operativo, del nostro cellulare e così via. Quando a queste funzioni si aggiunge un'altra, che può essere molto utile per questo e per altro, che sono quelle funzioni che, a secondo del sistema operativo, sono chiamate per esempio del campo, nel caso degli iOS, sono chiamate delle funzionalità full immersion e ci permettono, a un certo punto, di proteggerci verso telefonate in certe ore del giorno. Per esempio, dalle 22 fino alle 7, nessuno mi può telefonare tranne, quindi si può operare una scelta selettiva, vuoi delle telefonate che tu puoi ricevere in quel periodo forbidden, vietato, d'accordo, per tutti gli altri. Come la collega del CNR disse per il suo figlio, io dalle 10 alle 6, quello non riceve telefonate e non può fare telefonate. Quello era nell'ambito del fogretto parente al console, però il concetto è simile. Quindi io posso dire, dalle 22 alle 7, la suocera non può chiamare. Lasciamo stare la suocera perché le suocere si offendono tutte. Chiunque non può chiamare. Non può chiamare, chiunque tranne possiamo dire la persona X o la persona che voi noi decidiamo. Stesso vale anche per le notifiche da parte di applicazione. Se ci sono applicazioni che danno notifiche, se io non voglio ricevere notifiche, posso a un certo punto dirglielo dicendo io non voglio ricevere notifiche tranne che da questa applicazione, non so, la persona X. Liglio cosa vuol dire? Scrivere? No, notifiche significa che ti arrivano dei messaggini con delle informazioni. Sì, no, no, per evitare che arrivino. No, dobbiamo andare in personalizzazione e poi lo vediamo. In personalizzazione. Poi lo vediamo. Quindi abbiamo detto, ci sono le funzioni, quelle solide già nel nostro smartphone, che già sono progettate per proteggere la nostra privacy. Ci sono queste altre funzionalità che si applicano in tantissime altre cose. Io devo scrivere un articolo e che non voglio essere disturbato dalle 5 del pomeriggio alle 8 del pomeriggio. Si può fare. Faccio con queste tecniche di carità che, ripeto, nell'ambiente iOS si chiamano full immersion e nell'ambiente Android si chiamano benessere digitale. Benessere. Bene, quindi seconda possibilità. Terza possibilità. Quando io non sono pago di queste due funzionalità che ho descritto prima, posso ricorrere a delle applicazioni terze parti che io trovo sia in ambiente iOS sia in ambiente Android. Cosa fanno queste applicazioni terze parti? Queste applicazioni terze parti, ovviamente, se esistono, è perché aggiungono funzionalità a quelle che ci sono già nel telefono, altrimenti non avrebbero ragione di esistere. Anche perché alcune di queste sono gratis nella parte di base. Poi via via che aumenta l'appetito espresso in protezione delle diverse chiamate, io devo pagare cifre di 3 euro al mese. Sì, si può che non va pagato. Esatto. Queste applicazioni, poi ne vedremo alcune, sono importanti. Sono importanti perché, ripeto, compendiano, per esempio, un elemento che le distingue queste applicazioni è che non solo ti informano su chi ti sta chiamando in quel momento e quindi tu puoi benissimo decidere di non rispondere, d'accordo? Ma ti informano anche su numeri che non sono nel vostro indirizzario del telefono. Perché se sono nel indirizzario del telefono, uno vi arriva una chiamata a una persona, a voi nota che nel vostro indirizzario appare il nome di quella persona. sta chiamando la signora Maria da contatti, viene preso. Però ci sono telefonati che non sono, non arrivano dai contatti. Queste applicazioni di terza parte sono in grado di scoprirlo. Ah sì, eh? Sì. E questa è una prima funzionalità, questa è gratis questa funzionalità. Un'altra funzionalità di queste applicazioni, che io dico accomuna tutte queste applicazioni, poi c'è quella un po' più sofisticata, un po' più costosa, ma parliamo della sostanza, per far capire. Poi c'è un'altra funzionalità importantissima, quello del blocco della chiamata. Perché io non solo vengo informato, e vengo informato prima che squilli il telefono, attraverso il meccanismo delle notifiche, che è un meccanismo molto più snello e più veloce. Tra un po' ti chiamerà, sta per chiamarti, sta per chiamarti e ti arriva una notifica, d'accordo, con il numero e con l'indicazione anche di chi ti sta chiamando. Perché ti possono anche dire chi ti sta chiamando. Poi vedremo come fanno a fare questo. E ovviamente c'è la possibilità che automaticamente quella telefonata venga messa in blocco e venga inserita in una lista nera, per cui voi sarete sempre protetti da questo. Ovviamente poi vedremo che bisogna stare accorti a queste cose, perché potrebbe succedere che voi riceviate una telefonata da un numero non nemico, non rompiscatole, che però la prima volta che vi chiamano bisogna stare accorti. Non è memorizzata, per cui dici lo blocco, invece magari è un'offerta di lavoro. Esattamente. Quindi è simile anche quando si blocca su WhatsApp o quant'altro una persona che non è gradita. Esattamente. E si dice, arrivi in fondo, blocca. Solo che questa operazione tu devi farla manualmente. E non è uguale, è manualmente. E invece? Lo devi fare manualmente accedendo alla rubrica. E invece quella che dici te? È dinamica. Cioè viene fatta automaticamente dall'applicazione. Dalle applicazioni. Basta impostare. Impostare all'inizio, prendere una di queste applicazioni. Cioè lo fa automaticamente. Lo fa automaticamente l'applicazione. Il sistema iOS o Apple. E tu non lo devi fare manualmente, andando sulla persona o sul numero che non vuoi più ricevere il telefonato, e blocca quel numero. Bene, questa è la mia parte. La seconda parte invece, e questa che noi abbiamo visto, è la parte tecnica. Cioè tu lo fai utilizzando uno tuo cellulare, vai su Android, vai su Apple, poi lo vediamo dopo. Vedo che il signor Mario è lì che sta spipolando la ricerca. No, 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 ce l'ho già. Apro una parente. Controllavo le notifiche che ti devono arrivare anche su cellulare, a volte indesiderate. Apro una parente. Ma quante persone sanno quello che stai dicendo in questo momento, che è banale, nel senso dell'utilizzo di un prodotto che hai in mano, e che non sai gestire, non sai usare? Quante persone lo sanno? Ora, io quante siano... È come quando uno ha un'auto e non sa che c'è anche la sesta marcia. Esatto, ma quante volte nell'auto noi abbiamo scoperto, ormai dopo che l'abbiamo utilizzato per molti mesi, che ci sono funzionalità che noi non sapremmo neanche. Perché? Chi è che si va a guardare, una volta che ha comprato l'auto, dall'inizio alla fine, si va a guardare il manuale di istruzione? Nessuno. Io l'ho scoperto dopo quattro anni, un servizio che avevo in auto. Il freno a mano. Allora, abbiamo detto... Noi, aspettando di vedere poi tecnicamente come le facciamo queste cose, c'è un altro... Questo tipo di fenomeno, cioè essere attaccati continuamente, c'è gente che ha ricevuto centinaia di chiamate indesiderate in una settimana. Di proposte. Di proposte. Allora, a un certo punto, la legge non poteva non accorgersi di questo. Già nel 2010, poi vediamo esattamente i dettagli di questa storia, venne fatta una prima pensata, che diventò legge, cercando di andare a istituire un meccanismo, un regolamento e un meccanismo, che evitasse, sui telefoni fissi all'epoca, le telefonate moleste, o le telefonate non giustificate, eccetera, eccetera. non desiderate. E ne venne fuori un concetto, che gli americani chiamano by laws, cioè un concetto che viene regolato dalla legge, che si chiama il registro delle opposizioni. significa che qualsiasi persona non vuole essere raggiunto da telefonate lo dichiara, si dichiara attraverso questo registro delle opposizioni, poi vedremo che il registro delle opposizioni in dettaglio ha degli obblighi sia per l'utente, per l'abbonato al telefono, sia per gli operatori che vogliono fare telemarketing. Le vedremo in dettaglio queste cose. Quindi abbiamo fatto una carrellata generale. Ora scendiamo di livello e ne cominciamo ad andare, guardando Android e guardando l'IOS, i sistemi operativi, andiamo a vedere come queste cose si possono operare fisicamente. e allora cominciamo da da quello che sono le applicazioni, diciamo, le funzionalità built-in, cioè con le funzionalità che sono già dentro il telefono. Che sono qui dentro? Allora cominciamo da Android. Allora, prima di tutto, sia che si tratti di Android, sia che si tratta di IOS o IOS, c'è un'applicazione fondamentale che la gente usa ma quella che regola molte di quelle cose che stiamo per dire che è la famosa il telefono. L'applicazione è il telefono. Avete visto? C'è l'icona con un telefono. Sì, va in applicazione. Quella è presente sia su Android, sia su IOS, sull'iPhone o su qualsiasi altra marca. Deve andare a generali? No. No, no, no. C'è proprio l'applicazione che c'è il simbolino del telefonino. D'accordo? Sì. Allora, se io a un certo punto utilizzo quell'applicazione, quell'applicazione, sì, quella è un'applicazione come tutte le altre, consente a telefono del telefono. Quell'applicazione mi permette, per esempio, di andare sul registro delle chiamate, d'accordo? Io vedo chi mi ha chiamato, d'accordo? E se qualcuno mi ha chiamato recentemente ed era una chiamata non desiderata, per esempio da parte di telemarketing e così via, io posso andare a pigiare diciamo il numero, c'è la parte informativa di quel numero e posso bloccare quel numero, lo posso bloccare. Ci premi sopra? C'è la parte informativa, sotto appaiono alcune informazioni, l'ultima voce più o meno, c'è, adesso parlo di IOS, c'è scritto blocca numero, d'accordo? A quel punto quel numero è bloccato, vuol dire che le prossime volte che voi riceverete telefonata da quel numero non vi sarà... Faccio anche per Android. No, parliamo adesso questo per quanto riguarda quindi sia per Android sia per quanto riguarda IOS l'applicazione telefono è fondamentale, però sopra queste applicazioni... Metti a sedere Luca, lo so che ti piace. Sì, bloccato, bloccato. Accevo di microfono. Metti a sedere Luca. Luca è uno studente modello, no? Ma anch'io... Ma io ho l'iPhone, è uguale, è uguale, è uguale, dice ho detto adesso vai sull'applicazione... No, ascolta, c'è telefono, c'è sire ricerca, notifiche, chiamate in entrata, leggi nome chiamate, su altri dispositivi, rispondi con messaggi, inoltre chiamate... Bloccato. Aviso di chiamata, mostro ID, silenzio, numeri sconosciuti, contatti bloccati, segnalazione... Cioè tutta una serie... Sì, ma tu sei andato sull'applicazione, vai a cercarti la lista delle ultime chiamate. Professore Laforenza, la scusi. Chiamate in entrata? Sì, fai chiamate in entrata, sì. Ci sono dei numeri? No. Banner a tutto schermo. Quando l'iPhone è sbloccato... È sbloccato, mostra come banner a tutto schermo. Che poi... Aspetta, aspetta, vai. Che poi oltre a quelle bloccate, quando mi arriva una telefonata, che dopo sento che è un... Un rompiscato. Sì, no, anche perché ho imparato una cosa, spesso succede, quando vedo un numero strano, io rispondo, sto zitto, sto zitto, si chiude da sé la chiamata, probabilmente è una risposta automatica, entra un selettore automatico, che risponde a... quello è il robot, quello è l'applicazione... Scusate un attimo, devo fare un appunto, la signora Maria, la signora Maria, non è attenta, non è attenta, perché io parlavo dell'applicazione telefono, non ha... Lei è andata su impostazione, non deve andare su impostazione, ne parliamo dopo. Preferite, ricette, no, andiamo su telefono, cioè, cliccate su telefono, c'è a un certo punto le chiamate, io posso andare a vedere una chiamata indesiderata e posso bloccarla, basta andare su quel numero, cliccarci sopra, vedi, guarda, bloccata. Fra l'altro, io ho un elenco di chiamate bloccate, poi, probabilmente, se ti richiamano di quello, lo riconosci come spam, infatti ho trovato anche le chiamate spam, quindi sono chiamate che sono arrivate successivamente a un numero che avevo bloccato. Allora, detto questo, abbiamo detto, l'applicazione Cardini che voi dovete guardare e l'applicazione telefono, non andate su impostazione ancora, su impostazione ne parliamo fra un attimo. Professore, professore, questo è facile, però è manuale. Io chiedo, mi può cambiare di banco? No, non posso cambiare di banco, almeno fino alla fine di questo anno scolastico. Allora, detto questo, se a un certo punto io so maneggiare questo, però vedete che voi dovete fare un'operazione manuale per fare, cioè dovete andare sull'applicazione telefono dove c'è la cornetta telefonica, dovete andare al numero di telefono che volete bloccare oppure guardate le recenti dove vi hanno telefonato e farlo. Questa è un'operazione manuale. Posso aggiungere una piccola cosa? Non vorrei però anticipare. Il mio cellulare mi avverte quasi sempre quando c'è un numero non nell'elenco se molto probabilmente quello è un possibile numero di telefono spam, cioè di quelli da bloccare. Esattamente. Me lo dice in anticipo prima che io risponda alla telefonata e quando mi dà questa possibilità cancello. A volte mi capita anche arrivano telefonate a cui non rispondo numeri che non ho io controllo la cronologia se è l'unica telefonata arrivata cioè non ho mai avuto altre quello è uno spam. Allora abbiamo detto applicazione telefono chiudiamo l'argomento non mi viene nulla a me lo pigio chiama, messaggio, aggiunge il contatto e chiama il contatto la signora Maria facciamo una ripetizione però con lezioni private però facciamo lezioni private e dov'è? Forza fenomeno anche te signora Maria facciamo lezioni private sa perché sa perché perché abbiamo tantissime cose da dire ai nostri radioascoltatori il tempo è tiranno ecco trovato benissimo audio qui c'è sul numero siamo siamo molto lontani vabbè chiudiamo l'argomento abbiamo visto che abbiamo visto che l'avevo detto verso la forenza poi mi copia l'applicazione l'applicazione diciamo telefono l'abbiamo sviscerata è un'operazione manuale che si può operare adesso saliamo un attimo il livello prima ho parlato che io posso andare in certe ore del giorno signora Maria mi ascolti è andato un po' nel confusione mi si è messo in crisi decidere decidere a un certo punto di andare a limitare le telefonate in entrata a prescindere in certe periodi del giorno o della notte allora sotto Android andiamo alle impostazioni sotto iOS andiamo alle impostazioni è uguale andate alle impostazioni si Android che iOS sotto impostazione per Android scegliamo una voce che si trova sotto impostazione che si chiama benessere digitale e controllo dei genitori benessere digitale dovete trovare eccolo qua io non ce l'ho e si fermi là tu invece lei signora Maria deve trovare full immersion full immersion questo fa vedere full immersion perfetto ecco non c'entrare queste due funzionalità entriamo adesso in benessere digitale ed entriamo in full immersion si grande d'accordo voi noterete che sotto Android c'è scritto modalità concentrazione modalità riposo sotto iOS c'è scritto non disturbare lavoro personale riposo fermatevi allora se voi andate dentro una di queste non tutte perché non ci abbiamo tempo troverete che c'è la possibilità di dire da quale ora a quale ora voi non volete essere raggiunti di telefonate e potete anche dire quelli che sono le eccezioni a questa situazione cioè quelli che pur avendo voi messo un fermo possono chiamare notate che però questo non ha a che vedere con le telefonate moleste questo ha a che vedere con tutte le telefonate scuso quello che te vuoi che tu sia raggiungibile perfetto quindi riposo ma cosa c'è in un telefono perfetto riposo questo è un mondo è un mondo è un mondo allora abbiamo detto le funzionalità già viste l'abbiamo raccontata full immersion oppure oppure queste del benessere digitale come funzionalità generale l'abbiamo viste resta da verificare a questo punto le applicazioni terze parti d'accordo allora uno potrebbe porsi il problema ma quante applicazioni che servono per identificare le chiamate signora Maria per bloccare le chiamate indesiderate per fare un blocco automatico di queste operazioni cioè voi non ci dovete più mettere mano ci pensa il sistema e poi c'è un'altra bellissima funzionalità quella che si chiama il telefono inverso in queste applicazioni non qui stiamo parlando delle applicazioni cioè io do un numero e il telefono sì ora vediamo cosa come si fa e il telefono mi dà a chi appartiene quel numero è una specie di come dire di telefono inverso generalmente abbiamo nome e cognome sulle pagine gialle si può fare invece avevamo detto non si può più fare ma su questa applicazione però io era abituato questa è un'applicazione che non conoscevo solitamente io quando arrivava un numero o sconosciuto o altro anche e soprattutto quando arrivavano quelli fissi che ora non arrivano quasi mai più in genere telefono o cellulare andavo su internet al motore di ricerca digitavo il numero e solitamente ci sono dei siti internet che dicono anche sulla base di una serie questo lo fanno anche ora e possiamo l'ho fatto io anche giorni fa come si chiama cosa quello che dicevi stiamo parlando no stiamo parlando in generale del fatto che c'è la possibilità telefono inverso come si chiama l'applicazione no le applicazioni adesso le vediamo fra un attimo perché sono tante sono tante noi stiamo parlando adesso della infarinatura generale cosa fanno in genere queste applicazioni terze parti che occorre scaricarsi sopra il proprio cellulare allora cominciamo a vedere le applicazioni io le do in un ordine così come io le ho scoperte in generale per interesse non ha la presenza quest'ordine di stare a dire questo è il migliore che non è questo l'obiettivo nostro diciamo un'applicazione che ha un nome molto diciamo chiaro è true color true color scritto true color tutto attaccato ce l'ho ce l'ho ce l'ho allora un'altra applicazione faccio un elenco per far vedere quanti ce ne sono ma non è un elenco esaustivo adesso vi racconto la maggior parte hanno una base gratuita dopodiché se richiedi più funzionalità devi farti un abbonamento però le funzionalità di base sono già più che sufficienti poi un'altra applicazione si chiama calls calls blacklist scritto calls blacklist un'altra si chiama call up un'altra si chiama dovrei rispondere punto interrogativo dovrei rispondere c'è anche la versione ovviamente inglese un'altra si chiama che per esempio questa è attivabile sui telefoni samsung si chiama aia ma è scritto h si non è aia quando ti fa male è scritto h i y a che in sudcoreano dovrebbe significare ciao sono un letto male poi who is call mister number e ce ne sono blocco blocco chiamate call blocker free ce ne sono tantissime questo è un sotto insieme blocco chiamate cosa vuol dire blocca le chiamate che non desiderate allora cosa comuna queste applicazioni che vanno scaricate dai vari diciamo store sia google sia apple identificano le chiamate bloccano le chiamate indesiderate blocco e il blocco è automatico e hanno la capacità di fare da telefono inverso cioè io tiro il numero e tu mi dici chi sono come funzionano queste applicazioni in generale prendiamo l'applicazione true caller che è quella fondamentalmente più più che è una delle più gettonate diciamo così va che ho qua esattamente ora c'è anche registrazione chiamate si puoi anche registrare una chiamata perché può esserti utile questo ma è impostata qua quando fai la telefonata no 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 non sempre si può registrare comunque a parte questo identificazione questo lo puoi fare in diversi modi però ho detto questo allora true caller identificazione come funziona true caller è scritto basta true caller si ho capito true caller allora fermi fermi tutti fermi cominciamo a ragionare sulle cose che le persone non sanno perché queste sono cose facili neanche io si si facili no sono cose facili quando ti hanno spiegato che esistono si ho capito ma non ce l'ho anch'io true caller ma dice chiamate identificazione allora come funziona questo meccanismo il momento in cui io scarico pigliamo ad esempio true caller va bene il momento in cui io scarico questa applicazione devo dare tutta una serie di informazioni perché viene creato un mio account come succede per tutti i servizi dove devo dare anche il mio numero telefonico il mio numero di cellulare ovviamente e i miei di miei di miei di ora dovete sapere che quando voi accettate queste cose il vostro numero va a finire nel database dei numeri telefonici di true caller di assange no di true caller di true caller allora come funziona come funziona il concetto di queste applicazioni quindi una volta che voi avete fatto l'ha creato l'account l'applicazione vi chiede una serie di informazioni sia queste che altre devo dire che alcune altre applicazioni sono un po' meno intrusive però diciamo alla fine dei conti il concetto è lo stesso allora supponiamo che noi siamo noi tre abbiamo deciso di adottare true caller va bene la scarichiamo la personalizziamo ci auto ci diciamo creiamo l'account la personalizziamo rispondiamo a tutte le domande cosa succede quando noi abbiamo fatto questa operazione signor Mario che il mio address book tutti i miei contatti tutti i suoi contatti e tutti i suoi contatti vengono trasmessi a true caller che va a integrare questi contatti all'interno di un gigantesco database di numeri telefonici che dicono a true caller quelli che sono i nostri contatti mettiamo in piazza i nostri numeri anche privati mettiamo i nostri numeri quindi uno gli viene fuori però c'è un però attenzione le cose bisogna guardarle da tutti i punti di vista e poi decidere quello che a noi conviene fare allora a un certo punto si viene a creare questo grosso database di true caller e può succedere per esempio guardate che questo è molto interessante perché ti chiama ti lega anche i concetti dell'intelligenza artificiale che la signora Maria andando a indicare a fianco al mio numero telefonico mi ha indicato come professore la forenza il signor Mario mi ha indicato come mimmo la signora Giovanna mi ha indicato come domenico la forenza allora cosa fanno questi sistemi se quelli che hanno scaricato true caller abbiamo detto il proprio address book cioè il proprio lista contatti viene trasmesso al database di true caller true caller cerca di fare utilizzando tecniche di intelligenza artificiale di raffinare e fare in modo che dietro quel numero ci sia una persona riconoscibile che non deve essere professore la forenza non deve essere mimmo non deve essere domenico la forenza deve essere un numero univoco perché perché in questo modo non solo ha meno entrate nel suo database quindi non è gigantesco anche se lo è perché si parla di miliardi di numeri ma a un certo punto ha la possibilità poi che quando deve decidere true caller se è uno sconosciuto ha la possibilità anche di andare a analizzare i dati che sono sul database e derivare se questo è uno sconosciuto anche perché true caller si alimenta anche come altre applicazioni di quelle che sono la lista di quelli che sono i famosi spammer cioè i famosi quelli che fanno le chiamate indesiderate quindi true caller queste cose le conosce ma conosce anche tutto quello che è il nostro patrimonio di contatti infatti infatti non gliele voglio dare senti sempre a full immersion cioè se attivi una full immersion su questo dispositivo verrà attivata anche sugli altri che utilizzi cioè se c'hai un ipad tu quella regola la sposti a tutti se vuoi se vuoi capito altrimenti devi attivare cioè se tu avessi un ipad un tablet e avessi un cellulare tu puoi farlo che quel non ricevo messaggi non ricevo chiamate sia sul cellulare qui lo fai una volta sola ho capito oppure lo puoi fare ricevo chiamate su uno e non sull'altro e non su quell'altro lo puoi impostare in quella fase lo puoi impostare ho capito allora torniamo a queste applicazioni di cui parlavo prima e quindi queste applicazioni da una parte come dire rassicurano perché di fatto le applicazioni prima di tutto se c'è un numero che ci chiama automaticamente prima che squilli mediante il meccanismo delle notifiche che è più efficiente come segnalazione rispetto alla chiamata che deve eseguire un suo iter d'accordo già vi avvertono che sta per chiamarvi un numero indesiderato oppure vi avvertono d'accordo se quel numero cioè prima che squilli mi avvisano che arriverà usano queste applicazioni usano un meccanismo che si chiama il meccanismo delle notifiche che è un meccanismo più leggero dal punto di vista tecnologico e mi arriva prima lo vedi sai che non ti stai neanche a preoccupare anche perché a queste applicazioni le applicazioni hanno delle funzionalità aggiuntive che sono quella del blocco in automatico automaticamente vanno tutto loro cioè ci pensano loro con quel piccolissimo rischio che vi ho detto prima io che bisogna stare accorti perché potrebbero scambiare dei falsi positive potrebbero succedere che vi chiamano una persona che non va mai chiamata che non hai nei contatti ma che però è utile bisogna starci un po' accorti però non sono casi frequenti perché sono molto intelligenti usano tecniche di intelligenza artificiale queste applicazioni e lì c'è anche la funzionalità del telefono inverso dice ma questo numero qua che numero è e invece di andare come diceva il signor Mario prima andare su un browser digitare il numero che va chiamato i browser sono stati vanno a cercare in dei siti dove effettivamente i molestatori o quelli che vengono assimilabili al molestatore sono di fatti già elencati quindi il browser quel numero lì mi dice a chi appartiene guarda questo numero ti dice che questo numero appartiene a categoria di telemarketing normalmente ti dicono venditori di venditori di generalmente non ti dicono questi mentre le applicazioni di cui si parla noi adesso ti dicono anche a chi appartiene quel numero d'accordo quindi sono applicate chiaramente queste funzionalità tu le devi pagare con un abbonamento infatti c'è la funzionalità premium cioè la funzionalità che ti permette il pagamento 3,90 al mese di avere tutto il blog ma in questo rientra anche i famosi accetta cookie roba del genere no questa è un'altra roba parliamo di telefonate parliamo di telefonate chiamate perfetto allora quindi abbiamo visto che questa è la parte più corposa delle tre possibilità quindi o uso le tecniche che sono le metodologie che sono già dentro o uso i sistemi come o uso le applicazioni ci siamo a questo punto invece guardiamo cosa dice la legge in questo tipo di tematiche perché è di fondamentale importanza saperlo e allora io vado a vedere in particolare quello che avviene nel nostro paese è avvenuto o avviene nel nostro paese allora noi nel nostro paese chi vuole saperne di più su questo argomento ha una serie di possibilità noi adesso parliamo di quella che si chiama la protezione by laws cioè c'è una legge che garantisce la nostra tranquillità e niente a che vedere questo con le tecnicalità viste finora sui telefonini sui cellulari questa è la legge o le leggi allora nel con il decreto del presidente della repubblica numero 178 del 2010 stiamo parlando di Mattarella di 11 e passa anni fa la napolità allora che è successo è stato siccome questo problema delle chiamate indesiderate stava stava diventando assurdo ripeto persone che venivano raggiunte da decine di reformate moleste indesiderate provenienti da diverse parti e fu deciso per legge di stabilire il cosiddetto ROP scusate RPO registro pubblico delle opposizioni RPO questo è un servizio che è gratuito per l'utente cioè per noi cittadini non lo è per gli operatori poi vedremo perché e come questo è un servizio pubblico che permette di opporsi permette al cittadino di opporsi all'utilizzo per finalità pubblicitarie dei numeri di telefono che si trovano in luogo pubblico uno può anche intentare una causa attraverso questo lo vediamo fra un attimo oggi noi abbiamo vi ricordate voi il grande che adesso non si usa più ma insomma esiste ancora pagine bianche e pagine gialle ve lo ricordate quello è un luogo pubblico dove il vostro numero se voi siete abbonati e se voi volete che appaia sulle pagine bianche potreste anche io non voglio che il mio numero sia ci sono tutti i numeri ci sono tutti i numeri allora l'iesimo telemarketer cioè o servizio di un'azienda intesa a proporvi servizi o prodotti che fa si approvigiona su questi luoghi pubblici perché sono pubblici io prendo il numero e vi chiamo a casa questo prima era selvaggio non era regolato da nulla io non potevo come cittadino oppormi e io come operatore che facevo questo mestiere non c'era bisogno di nulla andavo sul circopullio prendevo numeri li digitalizzavo li mettevo in un sistema computerizzato e lì gli operatori partivano e poi i robot si sono istituiti i robot agli operatori ultima fase quindi questo servizio pubblico quindi che succede ovviamente io per poter dire che il mio numero telefonico notate che nel 2010 la legge il dpr 178 che poi è stato modificato nel tempo anche recentemente è stato modificato prima nel 2018 e poi ancora nel 2018 con un affinamento quindi recentemente ma credo ci sia ultima ma non è stato affinato è stato come dire questo affinché potesse andare avanti e potesse essere generato un regolamento valido per tutti ci dovrebbe essere il parere del garante per la privacy il garante per la privacy ha preso il suo tempo ha analizzato tutto quanto e ha dato il suo parere in posizione ecco ora tenete presente che l'ultima modifica che risale alla legge numero 5 dell'11 gennaio 2018 l'ultima modifica di fatto porterà a un regolamento che è un servizio che è in fase di preparazione che andrà in vigore qualcuno stimano quindi quello che noi stiamo dicendo ora dovrebbe essere operativo per giugno luglio di quest'anno ci siamo ma vediamo quindi come funziona il meccanismo io sono un cittadino e non voglio che il mio numero sia utilizzabile da operatori del settore prima che vada avanti una domanda io sono andato sul registro delle opposizioni prevede solo i numeri fissi o anche cellulari prevede con il nuovissimo quindi aggiunte fino ad ora fino ad ora fino a qualche tempo fa c'era solamente i numeri fissi adesso sono stati aggiunti i numeri riservati cioè quei numeri che voi non avete da nessuna parte e che qualcuno vi ha preso da che parte e dovrebbero giustificare perché vi hanno preso questi numeri se sono riservati e poi anche i numeri di cellulare questo quindi chiunque cittadino può tramite web o tramite la raccomandata o tramite l'invio di un modulo per posta elettronica ci sono diversi modi per farlo ma via web consiglio a tutti perché è facilissimo al momento in cui entrerà anche in vigore come ha detto lei la possibilità di scrivere anche i numeri di cellulare esatto allora quindi questo è il versante il versante del cittadino sul versante invece dell'operatore cioè chi opera telemarketing o attenzione qualcuno che ha dato in subappalto in outsourcing le operazioni di telemarketing a delle aziende specializzate perché io vendo il coperchietto posso farla io l'operazione di telemarketing ma spesso non ho le competenze che faccio do in outsourcing do in subappalto questa operazione che è legata a me perché di fatto il prodotto è il mio però lo fanno altri allora cosa deve fare l'operatore l'operatore ha una serie di doveri l'operatore deve dichiarare sul registro quelli che sono i numeri che lui intende utilizzare per le campagne di telemarketing che sta andando a fare quindi capite che c'è un'operazione di servizio tant'è vero tant'è la serie come fanno a sapere il mio numero perché il tuo numero lo sanno perché se il tuo numero è sulle pagine bianche sulle pagine gialle da nessuna parte allora se questo solleva un problema come fanno a sapere il tuo numero se il tuo numero è un numero riservato allora potrebbe succedere che tu in qualche momento della tua esistenza abbia sottoscritto l'autorizzazione ai tuoi dati e in questo modo tu avete visto quando fate dei servizi autorizzazione approvate che i vostri dati possono essere utilizzati quello che quando firmiamo la parte privacy quando tu fai l'operazione lì potrebbe succedere che in uno dei servizi di quelli che ti stanno servendo è previsto anche il che significa che tu puoi anche sempre utilizzando il registro dell'opposizione dire guarda io metto una pietra tombale non voglio più né perché ti dico questo è il mio numero adesso né su tutte le mie come dire accordi presi in precedenza di quello che sto facendo adesso perché si parla del passato non voglio che tutte le mie autorizzazioni relativamente a questo servizio a questi numeri da cui mi chiamano io debba essere poi molestato o diciamo disturbato da questi mi chiamano da numeri sia del sud o del nord gente che da tele da cellulare che poi tra il signor massimo esattamente che poi ti chiamano per nome signor luca signor quindi che succede a questo punto succede che gli operatori devono dichiarare chi vogliono chiamare nell'alveo delle campagne di marketing cosa fa il servizio alla base del registro dell'opposizione tra il cominciare il registro dell'opposizione è gestito per legge dal ministero per lo sviluppo economico dal MISE ma il MISE non ha le capacità tecniche di farlo improprio questo lo dà in outsourcing a chi? lo dà in outsourcing a una fondazione che si chiama fondazione Ugo Bordoni che è una fondazione importante a livello nazionale che si occupa da sempre di comunicazione questa fondazione ha gli skill tecnici il personale per poter gestire il registro delle opposizioni che altri non è che un database e quindi cosa faccio io operatore che voglio partire la campagna sul mio coperchietto il mio prodotto è il coperchietto devo andare a dire alla FUB alla Ugo Bordoni tutto in maniera elettronica avviene questo che io nella mia campagna andrò a utilizzare questi numeri telefonici i servizi messi a punto dalla Ugo Bordoni e dalla fondazione vanno a fare un mix fra i dati che l'operatore vuol chiamare e quello che sta nel registro delle opposizioni alla scoperta se nel registro delle opposizioni ci sta qualche numero che l'operatore intende chiamare i numeri che gli operatori intendono chiamare che sono all'interno del registro delle opposizioni vengono eliminati dalla lista quindi mensilmente questa operazione avviene per tenere aggiornato tutto quanto se continuano a chiamarvi fermo restando il fatto che devono passare 15 giorni di decantazione da quando io ho detto non voglio essere chiamato ci sono dei tempi tecnici in queste cose ma sono 15 giorni non è un problema io posso anche ovviamente dare ancora segnalazione lo posso fare o tramite l'operatore che ha l'obbligo di starmi a sentire o lo posso fare sempre attraverso il registro delle opposizioni come seconda cartellino giallo oppure c'è l'ultima chance che io denuncio questa situazione al garante per la privacy che sarebbe l'autorità nazionale preposta per legge a questo e altro a salvaguardia della nostra privacy capisci che prima di questa trasmissione tutte queste robe il tecnic delle persone non lo sanno sono d'accordo con te infatti la stiamo trasmettendo allora a questo punto dice vabbè ma che si fa è che gli fanno bu gli fanno gli fanno un così cosa fanno che fanno a quelli che diciamo non seguono le regole ci sono le sanzioni allora dovete sapere noi avevamo già parlato di sanzioni quando avevamo parlato del regolamento europeo per la protezione dei dati personali ricordate abbiamo dedicato due trasmissioni ormai più di un anno fa insomma al famoso GDPR con l'acomo diciamo inglese mi sono iscritto in questo momento con il mio telefono fisso il registro pubblico dell'opposizione il signor Mario devo dire la verità signora Maria devo dire la verità diciamo la verità un docente un insegnante dovrebbe essere molto molto corto bilanciamento soprattutto per la questione del genere cioè cosa vorresti dire chiamami le 4 milioni non ho capito torniamo alle sanzioni vi faccio un esempio di una sanzione che riguarda questo e altre cosettine allora recentemente cari state a sentire recentemente è stata combinata una sanzione di 26,5 milioni di euro 26,5 milioni a Enel Energia per telemarketing aggressivo trattamento illecito dei dati personali chiamano tutti i giorni dalla mattina alla sera ovviamente devo anche dire questo che l'azienda in questione che non è la sola a essere sanzionata ha dato le sue spiegazioni al garante del perché del per come loro ritengono di non essere io adesso sto parlando a bocce ferme che in data 19,1,22 quindi non si scherza su queste cose non si scherza pochi giorni fa Enel Energia ha ricevuto una sanzione per 26,5 milioni di euro per telemarketing aggressivo qualche anno prima il 2 il febbraio del 2020 la team era stata gli avevano combinato sempre il garante 27,8 milioni di euro team con una sanzione del 15,1 del 2020 perché venivano inviate chiamate indesiderate senza consenso da parte delle persone addirittura venivano censite persone che venivano contattate 155 volte al mese sullo stesso tipo di problema di prodotto d'accordo allora quindi non si scherza su queste cose qua quindi infatti se voi ci fate caso il numero di telefonate che vi arriva a casa e vi arriva sui cellulari si sta notevolmente abbassando perché la legge ci ha messo una pezza questa non è la panacea in assoluto però noi adesso abbiamo gli strumenti che o by default utilizzando i parametri del cellulare oppure scaricandoci in applicazione decidendo eventualmente anche di pagare qualcosa se siamo veramente bersagliati di altrimenti le informazioni base delle applicazioni bastano oppure c'è la legge che ci garantisce beh la somma di questi tre come dire combinato disposto di questi tre dovrebbe in qualche maniera aiutarci a preservare quello che noi siamo no volevo dire io sono stato mi sono iscritto al registro delle opposizioni molto molti anni fa molti anni fa e all'inizio all'inizio effettivamente ho ricevuto un numero inferiore di chiamate poi piano piano sono ricominciati a salire puoi anche fare denuncia ma è stata aggiornata ora recentemente la cosa più semplice quando mi chiamavano poco dopo l'iscrizione provavo a dirgli ma chi siete poi gli dicevo subito guarda che io sono iscritto al registro delle opposizioni se non non faceva tempo a finire la frase era un deterrente che era vero probabilmente lo sapevano e ci provavano lo stesso allora quindi gli operatori a questo punto si assumono una certa responsabilità su questo gli operatori ma non le bimbe che chiamano questo è un altro discorso ancora questo è un discorso che va sullo sfruttamento del lavoro aggiorno un attimo il dato di Luca Barboni sulla pagina di garante privacy nella pagina in cui si parla appunto delle telefonate commerciali come opporsi c'è modello per la segnalazione al garante della ricezione di telefonate pubblicitarie nonostante l'iscrizione nel registro delle opposizioni e in più aggiungerò un'altra cosa che sempre la legge numero 5 del 2018 l'ultima i numeri riservati quelli che nessuno può trovare su nessun luogo pubblico sulle pagine bianche non ci sono allora che non sono presenti in elenco o i numeri di cellulare se vi chiamano da questi numeri gli operatori rischiano di essere chiamati a rispondere del come abbiano ottenuto quel numero e quindi scatta il GDPR anche su questo e bisognerà spiegare a norma di GDPR a chi di dovere al garante eccetera in forza di quale base giuridica si tratta il dato perché voi state utilizzando i miei dati personali di cui non vi ho mai autorizzato bisogna però fare attenzione qui che noi chiudiamo la trasmissione con alcune regole di base allora abbiamo visto come ci possiamo proteggere by default o by loss abbiamo detto che c'è il registro delle opposizioni però c'è una questione di buona creanza quando vi chiamano al telefono d'accordo se voi incappate in questo e i sistemi di protezione test e detti non hanno già fatto un'auto protezione abbiamo messo questi numeri in blacklist lista nera che non vogliamo sentire ricordatevi usate degli accorgimenti non date mai i vostri dati personali a queste persone e soprattutto sembra una banalità dirlo non dite mai la parola sì non dite mai la parola sì perché la parola sì potrebbe essere in un mondo digitale presa da un pezzettino di un'accepzione generalmente quando un'accepzione dice sì chi parla no mai dire sì perché chi è perché c'è il cosiddetto fenomeno del consenso del vishing che dicevo prima mettono insieme le parole per far credere che tu abbia detto sì il vishing il vishing è un vishing sofisticato operato con la voce perché supponiamo che io sono un dipendente di un'azienda e a un certo punto mi chiama il mio capo il capo è il capo è la figura diciamo giraticamente superiore e mi dice lavoro in banca no io lavoro in banca fai un versamento opera un versamento di un milione di euro alla ditta dal dettaglio generalmente ve lo dice il vostro capo no e in realtà quello che parla non è il vostro capo potrebbe essere la voce contraffata del vostro capo e il numero da cui voi ricevete la chiamata potrebbe essere stato filtrato da un servizio ed esistono questi servizi che vi camuffa il numero quindi arriva una telefonata dalla banca nazionale del lavoro dalla cassa di risparmio di Pisa da qui che vi pari a voi dalla credit agricole in realtà non è nessuna di queste tre ma è una banda di truffatori che sta cercando di capirvi alcuni dati e che voi ingenuamente dite inclusa la parola sì che può essere utilizzata contro di voi in qualsiasi momento ma ha accettato si può fare detto di sì è la sua voce o no sì è la sua voce e quindi questo è quanto cari attenzione si chiude la trasmissione con questo stamattina sentivo venendo qua Radio 24 che c'era incidenti punto radio ma era alle sette e mezzo che sostanzialmente diceva c'era la Mimola il problema dei monopattini delle biciclette che danno noia ho sentito cioè l'incidente mortale morto l'uno e morto l'altro allora lui ha detto signori non è il mezzo ma di come la si usa come sempre e quindi anche riguardo al discorso dei cellulari al discorso di internet quando dice ma hai visto nell'era dei social guarda che casino succede no è vero sì ma bisogna sapere come si usa è una superficialità come si diceva per la televisione come si dice adesso per i cellulari non è colpa di questo essere consapevoli da come lo usi professore la forenza ci dice sempre siate consapevoli del mezzo che usate esattamente quindi la trasmissione è per creare consapevolezza se uno va in bicicletta e dopo di che sta al vostro al libero arbitro al libero arbitro come direbbe il signore la maria qualcuno dice che il signore ci ha dato il libero arbitro poi è un problema nostro esattamente arriviamo nel peccato e quindi allora cari volevo dirvi che la settimana prossima questa è una grande notizia parleremo la sera quindi martedì 22 parleremo delle iniziative per diffondere la cultura digitale nel nostro paese in particolare l'iniziativa molto importante stabilita dal ministero per la digitalizzazione che si chiama Repubblica Digitale e ne parleremo e noi avremo in ospite il responsabile il dottor Giuseppe Iacono del Dipartimento per la Trasformazione Digitale che ci parlerà di quello che sta accadendo e ci saranno alcuni anche risultati di un premio quindi un top ospite e diciamo gente che regola le attività in questo settore sigla Alfabeto Digitale per parlare del mondo digitale e delle sue principali applicazioni la trasmissione ideata dal professor Domenico Laforenza ha lo scopo di informare con un linguaggio semplice e diretto gli ascoltatori sugli strumenti digitali sulle loro applicazioni e potenzialità ma anche sulle problematiche derivanti da un loro uso distorto o inconsapevole oggi nel nostro paese manca ancora una diffusa e consapevole cultura digitale soprattutto fra i diversamente giovani e purtroppo sono ancora tanti quelli che non sanno usare gli strumenti digitali uno smartphone un computer e non ne comprendono le loro grandi potenzialità Alfabeto Digitale perché come avrebbe detto il maestro Alberto Manzi non è mai troppo tardi anche per imparare ad usare la rete e non è mai troppo tardi e non è mai troppo tardi SONO LE 10 E 36 MINUTI PUBLICITÀ Cronaca, attualità, cultura, sport, spettacoli, contenuti multimediali. L'informazione corre.